Ben ritrovati a Bike Emozioni, speciale Giro d'Italia. È la volta della squadra polacca, coloro che hanno assorbito le feneri della BMC. Stiamo parlando ovviamente della CCC. Si presentano al Giro con l'obiettivo di trovare qualche soddisfazione e qualche successo di tappa. Assente naturalmente Greg Van Avermaet, come sempre il campione olimpico destinato al Tour de France. La squadra quindi si affiderà sul nostro Jakub Maresco, velocista puro che punterà probabilmente almeno ad una vittoria, visto che è la sua quarta partecipazione e più volte ha spiorato il successo. Per Jakub comunque un treno importante riservato da lui e dalla squadra, con Hobsian e soprattutto Francisco Ventoso, che possono dire la loro. Lo spagnolo vanta già due successi alla sua ottava partecipazione al Giro d'Italia. E quindi, grande esperienza per Jakub. Per la classifica, ma soprattutto per trovare almeno una tappa in montagna, almeno un'affermazione, ci sono Victor Della Parte e Ten Dam. Terzo e quarto giro ciascuno. Uomini sicuramente molto importanti in montagna che possono anche trovare una soddisfazione, ma la top ten per loro non è assolutamente un obiettivo. Chiudono la rosa tre esordienti assoluti al Giro. Cerni, Gradek e Amaro Antunes. Tutti probabilmente al servizio della squadra con la possibilità di fare appunto esperienza, ma soprattutto per il portoghese Antunes magari togliersi qualche buona soddisfazione in salita, visto le sue doti da scalatore. Una squadra che come sempre si presenta al Giro non con i suoi uomini migliori, ma ha sempre dimostrato di ritrovare gloria e successi. Puntiamo forte su Jakub, ma attenzione alle tappe di montagna, perché Ten Dam e Della Parte possono veramente dire la loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.